ciao ragazze benvenuti al nuovo appuntamento con la rubrica sfogliamo insieme il catalogo Yves Rocher allora oggi parliamo del catalogo numero 11 catalogo a validità dal 20 agosto a martedì 9 settembre 2014 vi chiedo scusa se il video lo faccio solo adesso ma purtroppo sono stata fuori e non avevo possibilità di registrare il video allora ragazzi partiamo subito perché è un catalogo pieno pieno di offerte allora come sapete come ricorderete dal catalogo 10 era stata lanciata la promozione per tutte le clienti che facevano un ordine di 25 euro diciamo sul catalogo appunto 10 e facevano un altro ordine di 25 euro sul catalogo numero 11 la possibilità di acquistare a 2 euro e 95 uno dei due prodotti che come sapete sono normalmente molto più costosi allora andiamo subito a sodo in modo da non avere un video molto molto lungo allora viene presentato la novità in campo di rossetti e sono i rossetti brillantezza vegetale a base di 100 per cento di olio di ciliegia è un rossetto molto brillante dalla coprenza modulabile è un'innovazione appunto in casa i verosci in quanto appunto a tutta base di olio di ciliegia poi ci sono a e viene proposto a 6 euro e 95 come offerta lancio poi ci sono tutta la linea di trucchi che sfoglio velocemente perché non voglio perdere molto tempo vabbè il classico rossetto e con il gran ruge che è sempre fantastico e lo stila stilo labbra e la stilo labbra zero difetti che sarebbe quella lì che sapete che se che serve per rastendere il rossetto senza farlo sbavare ed è quindi trasparente tutta la linea insomma le cipre la cipra effetto abbronzante la cipre opacizzante la fila cipre in polvere questo qui che sarebbe uno stile correttore giovinezza radiosa che è un correttore ma più che altro un illuminante vabbè la base preparatrice il correttore in crema zero difetti poi tutta la linea di fondotinta le fondotinta zero difetti che io adoro il fondotinta in crema un po più coprente il fondotinta questo qui giovinezza radiosa che sapete che alle perle leviganti della cira di rosa è molto amato come fondotinta questo qui tutta la linea di diciamo di mascara vi ricordo sempre che il più amato e più venduto di vero c'è il sexy palp è veramente amato tanto ma ci sono appunto tutti altri tipi di di mascara per tutte le esigenze poi c'è l'ombretto in crema a 9 euro in 95 questo è un ombretto che può essere al suo applicatore dura 12 ore veramente dura tutto il giorno io ce l'ho e lo utilizzo mi trovo molto bene sia l'applicatore per poterlo stendere ma se non vi piace stendere appunto l'ombretto con nell'applicatore potete tranquillamente stenderlo con le dita perché si stende bene asciuga rapidamente ma vi dà comunque il tempo di essere lavorato una volta asciugato potete applicarci sopra un altro tipo di ombretto una matita qualsiasi cosa insomma che vi va di applicare per dare profondità sfumatura insomma quello che più vi piace poi la liner la stilocchio waterproof è veramente un'ottima matita questa qui perché dura veramente a lungo e da un effetto insomma bellissimo sull'occhio per chi da quasi un effetto eyeliner è molto bella vabbè gli ombretti duo la matita per le sopracciglia e la matita 3 in 1 che sapete col liner ombretto tutta la linea per una manico perfetta vi faccio notare il trattamento unghie fortificate che è questo tubetto con gel crema all'interno che viene applicato alla sera per andare a dormire e massaggiato sulle cuticole e sull'unghia e anche il trattamento esfoliante unghie cuticole perché sapete che comunque le unghie vanno esfoliate e pulite anche loro per poter poi far andare in profondità entrare in profondità i trattamenti anche magari quello che ci applicate per nutrire le cuticole e quindi tutti i trattamenti necessari per la cura delle nostre manine anzi delle nostre unghie poi ci sta lo smalto di le varie colorazioni qui viene proposto un set mani che al suo interno contiene la crema sublimatrice 2 in 1 sarebbe quella mani lunghe la base unghie fortifica rinforzante e lo smalto brillante in questo caso la prima messa in evidenza è questo con lo smalto coral vifo perché è più amato da tutti a 9,95 ma con tutta una serie di varianti di colori quindi c'è vastissima scelta vabbè tutti i pennelli qui vi viene riproposto lo struccante rapido occhi bifasico a 3,95 che come sapete era stato in offerta appunto sul catalogo 10 a 3,95 mi viene riproposto gli altri struccanti tutta la linea di profumi quindi andrò velocemente ma mi soffermo su questo qui evidenza che è il profumo più amato in assoluto di Yves Rocher e vi sottolineo questo qui l'eau de parfum va poi a 100 ml c'è di 100 ml a 29,95 considerate che normalmente anzi su questo catalogo se non ricordo male stava a 36 euro quindi un prezzo veramente ottimo poi ripeto il profumo più amato va bene avanti con i profumi arriviamo alla cura dei piedi qui ci sono i vari balsami la pasticca diciamo i prodotti singoli per la cura dei piedi e qui vi viene proposto un set a 12,95 all'interno contiene il gommage piedi che come sapete all'interno c'ha una polvere c'ha questa polvere di pietra pomice che vi aiuta a eliminare le cellule morte e le calosità dei piedi poi la crema idratante appunto la crema nutriente per i piedi e lo smalto gloss ultra brillantezza per completare la pedicure poi andiamo avanti e parliamo di in breve dei prodotti per la cura della pelle del nostro viso nello specifico la Pure System propone questo set a 9,95 la lozione purificante il trattamento anti imperfezioni vi ricordo che la Pure System è una linea indicata per le pelli secche tendenzialmente acneiche e quindi insomma con delle imperfezioni perché all'interno contiene non solo la polpa d'aloe vera bio ma contiene anche l'acido salicilico che è un problema di pelle questa invece la sebo vegetale anche qui a 9,95 trovate l'acqua miscellare purificante 2 in 1 e il gel crema opacizzante e questa è una linea che viene indicata per le pelli miste ma che non hanno particolari imperfezioni vabbè poi la linea per pelli sensibili la linea idra vegetale vi ricordo la maschera e la chicca di questa maschera è che in realtà non va risciacquata è una maschera questa idratazione intensa che si mette prevalentemente la siria e si lascia assorbire e al massimo se proprio rimane un po di accesso si può togliere un dischetto di cotone è veramente molto 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 idratante poi questa qui questa è stata presentata nel catalogo 10 poi anche qui ci sono 3 set a 9,95 questo qui contiene il tonico idratante luminosità e il gel crema idratazione intensa 24 ore questa qui il tonico sempre lo stesso tonico ma con la crema ricca idratazione intensa quindi un po più corposa e l'altra invece che il tonico sempre idratazione di luminosità con la crema idratante fps 25 poi va detto alla linea della idro vegetale poi vabbè la linea per camille che sapete che io adoro e poi viene riproposta la bb cream a 9,95 nella colorazione light e medium poi tutto i prodotti per gli uomini quindi dopo barba creme per il viso anti age in base alle necessità alle esigenze vengono riproposti i solari in questo caso il set a otto ore e cinquanta dello shampoo docciamo noi più lo dopo sole 3 in 1 che sono dei prodotti che sono stati molto amati quest'estate degli altri solari e qui entriamo nella un'altra novità in campo pro di capelli sempre in casa i brochet parliamo dello shampoo e la lozione antiforfora quindi una new entry in casa appunto i brochet vengono proposti sia singolarmente che nel set a 9,95 euro vi dico brevemente contiene estratto di scorza di melagrana dalla triplazione antiforfora purificante protettilice consente a quello de capelluto di riequilibrarsi grazie al principio di fitorisanamento appunto è una novità poi vengono sono stati riproposti che sono stati molto amati in passato i set di shampoo a 2 a 5 euro considerate che normalmente uno shampoo costa 3 euro e 95 quindi conviene tantissimo di tutta la linea di shampoo tutta quanta tranne per questo acquisto stimolante che costa 7 euro perché è più costoso normalmente come shampoo perché è proprio uno shampoo specifico stimolante e per capire per avere i capelli forti e resistenti tutta abbassami maschere per i capelli va bene citi da risciacquo eccetera questo il trattamento stimolante da un mese per appli per da associare in caso di necessità allo shampoo colorino offerto a 7 euro di nuovo tutta la linea di dopo sole dopo questo è un complesso diciamo per mani lunghi e quindi un complemento alimentare la linea questa qua momenti di relax era la linea orientale tutta la linea per la cura delle mani e qui un occhio di riguardo perché parliamo di un trattamento anticellulite e per rimodellare il nostro corpo ragazzi funziona in due parole proprio il siero il docente globale si assorbe rapidamente non ha controindicazioni con la tiroide quindi non va a compromettere nulla non ha controindicazioni appunto si stende molto facilmente si assorbe subito quindi non c'è bisogno di stare di massaggiare poi non unge vestiti non unge le case insomma veramente fantastico e poi funziona viene normalmente viene abbinato al trattamento esfoliante che quello che si utilizza per preparare la pelle sotto la doccia prima del siro ragazzi vi faccio notare il siro da solo costa 22 euro e 95 in offerta il trattamento esfoliante a 7,95 viene proposto a 24 euro e 95 il set quindi praticamente con 2 euro portata a casa anche il trattamento esfoliante quindi ottimo tutta la linea per la nutrizione in questo caso il set per il corpo esfoliato e nutrito a 12 euro e 50 con il gommaggio vegetale e l'olio secco nutriente tutta la linea appunto anche singolarmente li vendono tutta la linea per per nutrire il corpo la linea amamelis molto molto delicata e tutti i complementi alimentari che vado un po più veloce perché il video sta diventando lungo tutte le linee diciamo creme per il viso quindi da quella pelli un po più meno esigenti ma comunque bisogna essere nutrita quelle con delle piccole rughe fino ad arrivare alla pelle un po più esigente fino appunto anche ad arrivare a questa qui che è una crema molto molto nutriente che è indicata per le pelli le donne diciamo dai 60 anni in su e si chiama cream rishi cream 369 e ripeto per queste pelli molto molto mature abbastanza segnate dal tempo e che hanno bisogno insomma di essere nutrite a fondo andiamo vabbè la linea lifting bio tutta la linea questa qua tritte dei tossinanti e la linea trucco questa acqua basica che è la luminelle e in particolare vi faccio notare ancora l'edizione limitata di questa qui del appunto di questa linea edizione limitata il smaltino il set di tre delle tre matite jumbo che sono queste qui che possono essere utilizzate come ombretto e sfumate e poi anche l'ombretto tre ombretti effetti perlati tre tonalità che è molto molto amato poi tutta la linea dei creme delle creme e gel doccia che conoscete la linea biologica per la crema delle mani per il corpo quindi tutta la linea biologica qui ancora di odoranti biologici di odoranti invece questi qua classici di feroci e tutta la linea per il corpo per nutrire e esfoliare la pelle in maniera golosa quindi l'esfoliante tipo a vaniglia oppure a frutta 100 per cento frutta con noi sia con il latte latte corpo bagno doccia insomma la pasticca la pastiglia effervescente da bagno insomma nella come si preferisce alla vena all'olio d'oliva e poi viene proposto il set a 9 euro e 95 che contiene il latte il latte corpo e l'esfoliante doccia colori insomma al cento per cento frutta poi i balsami labbra 1 euro e 95 tutta la linea monoi che sapete molto amata e alla fine anche qui c'è una novità in campo di crema doccia che serve che questo qui nuovo è del crema doccia alla profumazione magnolea della cina e costa in offerta in questo momento a un euro e 95 perché è un offerta lancio e anche questo ragazzi veramente se vi capita provatelo prendetelo perché un odore fantastico quindi niente ragazze so che sono stata abbastanza veloce ma non volevo fare un video molto molto lungo spero comunque che questo questo video vi sia stato utile per spogliare insieme insomma al catalogo e capire le novità dei prodotti se avete bisogno di informazioni aggiuntive quindi avete bisogno di conoscere meglio nel dettaglio alcuni prodotti o semplicemente volete delle informazioni non esitate a contattarmi sia qui mettendo magari dei commenti sotto al sotto al video oppure mandandomi in email mondo cosmetic chiocciolagmail.com oppure contattandomi sulla mia pagina facebook mondo cosmetic appunto pagina mi raccomando e insomma niente ragazzi se avete bisogno a disposizione sarò lieta di aiutarvi spero che questo video vi sia stato utile e se vi piacciono i miei video trovate interessante il mio canale interessante il mio canale iscrivetevi al canale niente ragazze io vi mando un bacio e vi ricordo sempre non dimenticate a chi ha già fatto un ordine di 25 euro per lo scorso con lo scorso album l'album 10 di approfittare fare un altro ordine di 25 euro perché tanto le offerte sono tantissime per poter approfittare appunto della promozione con 2 euro e 95 portati a casa uno dei due prodotti must di Yves Rocher niente ragazzi io vi saluto e vi aspetto al prossimo video un bacio a tutti ciao lo so vi avevo salutata ma mi sa che ho fatto un piccolo errore durante il video vi spiego se non ricordo male credo di aver detto che la linea della Pure System è indicata per le pelli secche tendenzialmente acneiche no mi sono sbagliata o meglio mi è uscito pelli secche non so per chi pelli grasse tendenzialmente acneiche quindi con particolari imperfezioni mi raccomando non utilizzatela se avete le pelli secche perché sarebbe troppo aggressiva e credo anche di aver detto o forse lasciato intendere che la linea della Hydro Vegetal erano i 3 set a 9,95 non ho è un set a 9,95 a scelta tra i 3 disponibili so che vi avevo salutata ma credevate di esservi liberati di me e invece sono sempre qui niente ragazzi scusatemi per l'errore e niente vi saluto e vi mando un bacio ciao